Dai! Allora, Angela Bia Buscaldi, è la giornata dell'abbraccio, free hugs, nata praticamente per caso, ma... Allora, in realtà è nata, non sono io l'inventrice della giornata dell'abbraccio, ma è un signore che si chiama Joan Mann, lui l'ha inventata nel 2004 e quando gli hanno chiesto come mai avesse inventato questa iniziativa, lui ha detto semplicemente per dispensare atti di gentilezza disinteressata. Oggi siamo abituati, io stessa subito dopo che ho finito l'università, abituati a fare solo attività che ci procurano comunque un denaro, profitto, guadagno. E quanto invece è stato importante scoprire negli anni che è importante donare gesti di gentilezza senza avere nulla di economico in cambio, ma un valore chiaramente raggiunto. E di affetto anche sul valore. L'iniziativa, come dicevo, è nata nel 2004, poi è stata conosciuta tramite un video che è diventato virale nel 2006, e poi in Italia è nato un progetto, riconoscibile facilmente nella pagina Facebook Contatti a Bracci Gratis, per cui io sono venuta in contatto con questa associazione nazionale, diventando referente nella mia zona, credendo che questa cosa potesse accadere anche a Cerignola. E tra l'altro avete tutte le associazioni locali, avete anche il patrocino del Comune di Cerignola, gratuito per questo evento. L'assessorato alle politiche sociali e del lavoro di Cerignola, molte cooperative del territorio, associazioni che sveleremo alla fine proprio per evitare di cadere sempre nel pregiudizio e di attribuire una persona ad un'associazione. Un determinato riconoscimento. Esatto. Magari alla fine, come forma di ringraziamento per la partecipazione, faremo tutti i nomi e ringrazieremo tutte le associazioni, le cooperative e le scuole di danza coinvolte. Grazie. Grazie a voi.